Gugliel Motel, l'eroe svizzero. Gugliel Motel è una figura leggendaria della Svizzera, considerato l'eroe nazionale del paese. La sua storia è narrata in numerose opere letterarie, teatrali e cinematografiche, ed è stata fonte di ispirazione per molti artisti e politici. La leggenda di Gugliel Motel si svolge nel XIII secolo, quando la Svizzera era ancora divisa in diversi cantoni, ognuno con la propria autorità. L'imperatore d'Austria, Alberto I, cercò di conquistare la Svizzera e impose un duro regime di oppressione. Secondo la leggenda, Gugliel Motel era un contadino di Uri, un cantone svizzero. Era un uomo forte e coraggioso, e un abile arciere. Un giorno, Tel fu arrestato da un funzionario austriaco per non aver salutato un'insegna imperiale. Il funzionario ordinò a Tel di incoccare una freccia e di colpire un'anatra che galleggiava su un lago. Tel riuscì a colpire l'anatra al volo, ma il funzionario, sdegnato, gli ordinò di colpire una mela posta sulla testa del figlio Punto Tel, nonostante fosse un uomo pacifico, non poté rifiutarsi di obbedire. Con un colpo magistrale, colpì la mela senza ferire il figlio. Il funzionario, furioso, ordinò a Tel di essere giustiziato. Tel riuscì a fuggire e a rifugiarsi sulle montagne. Si unì a un gruppo di contadini che si opponevano al dominio austriaco. I contadini svizzeri, guidati da Tel, ottennero la vittoria nella battaglia di Morgarten nel 1315, e la Svizzera ottenne l'indipendenza. La leggenda di Guglielmo Tel è diventata un simbolo della lotta per la libertà e l'indipendenza. È una storia che ha ispirato generazioni di svizzeri, e che continua a essere raccontata e celebrata ancora oggi. L'origine della leggenda L'origine della leggenda di Guglielmo Tel è incerta. Le prime testimonianze scritte della storia risalgono al XVI secolo, ma è possibile che la leggenda sia nata molto prima. Alcuni storici ritengono che la leggenda di Tel sia basata su una persona reale, che potrebbe aver vissuto nel XIII secolo. Altri ritengono che la leggenda sia un'invenzione, o che sia una combinazione di storie e leggende diverse. La figura di Guglielmo Tel è stata interpretata in modi diversi nel corso dei secoli. Per alcuni, è un eroe romantico, un simbolo della libertà e dell'indipendenza. Per altri, è un uomo violento, che ha commesso un omicidio per difendere la sua famiglia. Indipendentemente dalla sua reale esistenza, Guglielmo Tel è una figura importante della storia e della cultura svizzera. La sua storia è stata raccontata e celebrata in tutto il mondo, ed è un simbolo del coraggio, della determinazione e della lotta per la libertà.